Capitolo 16 Il gennaio e il febbraio del 1864 passarono, fiovosi e percorsi da venti freddi, con il cielo fosco e pieno di nuvole. In conseguenza delle disfatte di Gettysburg e di Vicksburg, il centro del fronte sudista aveva ceduto. Dopo scontri sanguinosi, quasi tutto il Tennessee era adesso tenuto dalle truppe dell'Unione. Ma anche questa nuova perdita non aveva abbattuto gli animi degli stati del sud. Una profonda risolutezza aveva sostituito le speranze, ma il popolo riusciva ancora a scorgere fra le nuvole un barnume d'argento. Intanto gli ienchi erano stati fieramente respinti in settembre, quando avevano tentato di far seguire alla loro vittoria nel Tennessee un'avanzata in Georgia. Nel punto più nord-occidentale dello stato, a Cicamauga, seri combattimenti si erano svolti sul suolo della Georgia per la prima volta dal principio della guerra. Gli ienchi, dopo essersi impadroniti di Cicamauga, erano penetrati nella regione attraverso i passi montani, ma erano stati respinti con gravi perdite. Atlanta e le sue ferrovie avevano contribuito in modo decisivo a fare di Cicamauga una grande vittoria per gli stati del sud. Per mezzo della linea ferroviaria, le truppe del generale Longstreet avevano potuto raggiungere il campo di battaglia. Tutto il materiale rotabile era stato spedito attraverso la linea, lunga parecchie centinaia di miglia. Atlanta aveva vegliato, mentre i treni si succedevano ad ogni ora e la città era attraversata da diligenze, carri e furgoni pieni di uomini che gridavano. Arrivarono senza aver mangiato né dormito, senza cavalli, senza ambulanze né treni di rifornimento e, scesi dai convogli, precipitavano nella battaglia. E gli Yankee erano stati scacciati dalla Georgia. Era il più grande episodio della guerra e Atlanta era orgogliosa al pensiero che le sue ferrovie avessero reso possibile la vittoria. Ma il sud aveva avuto bisogno della buona notizia di Cicamauga per sostenere il proprio morale durante l'inverno. Ormai nessuno negava che gli Yankee fossero buoni soldati e avessero bravi generali. Grant era un carnefice a cui non importava di sacrificare molte vite per una vittoria, purché la vittoria ci fosse. Sheridan era un nome che portava lo sgomento nei cuori sudisti. E poi c'era un certo Sherman, che veniva nominato sempre più spesso, la cui reputazione di grande combattente andava aumentando di giorno in giorno. Nessuno di questi, naturalmente, si poteva paragonare al generale Li. La fede in lui e nell'esercito era ancora forte, ma la guerra durava troppo a lungo. C'erano tanti morti, tanti feriti, tanti mutilati, tante vedove e tanti orfani. E c'era ancora da sostenere una lunga lotta che avrebbe portato con sé altri morti, altri feriti, altre vedove ed altri orfani. A peggiorare la situazione, cominciava a serpeggiare nella popolazione una vaga sfiducia in coloro che occupavano posizioni elevate. Molti giornali si erano schierati apertamente contro il presidente Davis e contro il suo modo di condurre la guerra. Le scarpe e gli abiti per l'esercito mancavano, i medicinali e i rifornimenti erano ancora più scarsi. Le ferrovie necessitavano di nuovi vagoni per sostituire i vecchi e di nuovi binari al posto di quelli che erano stati distrutti dagli ienchi. I generali chiedevano truppe fresche ed era sempre più difficile procurarle. Inoltre alcuni dei governanti degli stati, e fra questi il governatore Brown della Georgia, rifiutavano di mandare armi e milizie fuori dai loro confini. Con il nuovo ribasso della valuta i prezzi tornarono a salire. Il bue, il maiale e il burro costavano 35 dollari la libra, la farina 400 dollari al sacco, la soda 100 dollari la libra, il tè 500 dollari. Gli abiti invernali, quando era possibile averne, erano arrivati a prezzi tanto proibitivi che le signore di Atlanta foderavano i loro vestiti vecchi di stracci, rinforzandoli con carta di giornali. Le scarpe costavano da 200 a 800 dollari il paio, a seconda che fossero fatte di cartapesta o di vero cuoio. Le signore portavano ghette fatte con pezzi di vecchi scialli di lana o di tappeti. Le suole erano in legno. La verità era che il nord teneva il sud in un autentico stato di assedio. Le navi da guerra avevano irrigidito il blocco e ben poche erano le possibilità di riuscire a forzarlo. Gli stati del sud erano sempre vissuti vendendo il loro cotone e comprando ciò che non producevano, ma ora non potevano né vendere né comprare. Gerald aveva immagazzinato sotto le tettoie, presso la dispensa di Tara, il raccolto di cotone di tre anni, ma non ne traeva alcun giovamento. A Liverpool ne avrebbe ricavato 150.000 dollari, ma non c'era alcuna speranza di potervelo portare. Da uomo ricco, Gerald si era trasformato in un individuo che non sapeva come avrebbe potuto nutrire la sua famiglia e i suoi negri nell'inverno. La maggior parte dei piantatori di cotone era nelle stesse condizioni. Impossibile far giungere la produzione in Inghilterra e impossibile importare i generi di assoluta necessità. Il sud agricolo, muovendo guerra al nord industriale, aveva ora bisogno di un'infinità di cose della cui necessità non si era reso conto in tempo di pace. Era una situazione creata da speculatori e profittatori, i quali ne traevano tutto il vantaggio possibile. Poiché cibi e vestiario divenivano sempre più scarsi e i prezzi sempre più alti, le accuse pubbliche contro gli speculatori si inasprirono. Nei primi giorni del 1864 non si poteva aprire un giornale senza leggere denunce contro gli avvoltoi e i vampiri e appelli al governo perché li richiamasse al dovere con mano energica. Il governo fece del suo meglio ma senza alcun risultato efficace. Più che contro chiunque altro, l'opinione pubblica era violenta contro Rhett Butler. Lui aveva venduto le sue navi quando forzare il blocco era diventato troppo pericoloso ed ora speculava apertamente sui generi alimentari. Ciò che si raccontava di lui a Richmond e a Wilmington faceva arrossire di vergogna coloro che in altri tempi lo avevano ricevuto nella loro casa ad Atlanta. Malgrado tutte queste sofferenze, la popolazione di Atlanta era raddoppiata durante la guerra. Perfino il blocco aveva aumentato il prestigio della città perché con i porti chiusi e la maggior parte dei centri costieri occupati o assediati, la salvezza del sud dipendeva dalle città interne. La popolazione di Atlanta soffriva disagi, privazioni, malattie e morti come il resto della Confederazione, ma la città aveva guadagnato piuttosto che perso in seguito alla guerra. Il cuore della Confederazione batteva ancora forte, le ferrovie che erano le sue arterie la rifornivano con un afflusso continuo di uomini, munizioni e provviste. In altri tempi Rossella sarebbe stata molto addolorata per i suoi abiti logori e le sue persone che contasse per lei non poteva vederla. In quei due mesi fu più felice di quanto fosse stata negli ultimi due anni. Non aveva forse sentito il battito del cuore di Ashley quando lo aveva abbracciato? E non aveva visto quell'espressione disperata più eloquente di qualsiasi confessione? Lui l'amava, ora ne era sicura e questa convinzione la faceva perfino essere più gentile con Melania. Quando la guerra sarà finita? Pensava. Quando? A volte con un lieve senso di timore si domandava. E poi? Ma subito scacciava quel pensiero. Finita la guerra tutto si sarebbe aggiustato. Se Ashley la amava non avrebbe potuto continuare a vivere con Melania. Ma non era possibile pensare a un divorzio. Elena e Gerald, cattolici rigorosi, non ne avrebbero mai permesso di sposare un uomo divorziato. Sarebbe stato un allontanarsi dalla chiesa. Però dopo aver riflettuto, Rossella decise che se avesse dovuto scegliere fra la chiesa ed Ashley, avrebbe scelto quest'ultimo. Che scandalo sarebbe stato? Le persone divorziate erano messe al bando non solo dalla chiesa, ma dalla società. Ma lei era pronta a sacrificare tutto per Ashley. In un modo o in un altro, tutto si sarebbe sistemato. Se Ashley l'amava tanto, avrebbe trovato un modo. L'avrebbe costretto lei a trovarne uno. E con il passare dei giorni si sentiva sempre più sicura della sua devozione, più certa che egli avrebbe trovato una soluzione soddisfacente appena gli Yankee fossero stati battuti. È vero, aveva detto che ormai i nordisti li avevano in pugno, ma Rossella pensava che fossero tutte sciocchezze. Era stanco e sconvolto quando aveva parlato così, e in ogni caso non le interessava che gli Yankee vincessero. La cosa importante era che la guerra finisse in fretta e che Ashley tornasse a casa. Fu al tempo degli acquazioni di marzo, mentre tutti quanti erano costretti a rimanere in casa, che Rossella ricevette il colpo doloroso. Melania, con gli occhi brillanti di gioia e con un certo pudico imbarazzo, le disse che aspettava un bambino. Il dottor Mead ha detto che sarà per la fine di agosto o i primi di settembre. Lo avevo immaginato, ma fino ad oggi non ero sicura. Non è una cosa magnifica, Rossella? Avevo tanta paura di non averne. Io che ne desidererei una dozzina? Rossella, che si stava pettinando prima di andare a letto, si fermò con il pettine a mezz'aria. Dio mio, pensò, senza rendersi immediatamente conto di ciò che aveva udito. Ad un tratto le venne in mente la porta chiusa della camera di Melania e provò un dolore così violento come se Ashley fosse suo marito e le fosse stato infedele. Un bambino. Un bambino di Ashley. Come era possibile se lui amava lei e non Melania? So che sei sorpresa, continuò Melania un po' ansimante. Ma come farò Rossella a dirlo ad Ashley? Non sarebbe imbarazzante se potessi dirglielo in un orecchio, oppure forse soltanto lasciarglielo indovinare a poco a poco. Dio mio, esclamò Rossella quasi singhiozzando, lasciando cadere il pettine e appoggiandosi al marmo della toletta per sorreggersi. Non fare così, cara, sai che non è poi tanto terribile. L'hai detto tu stessa e non è il caso di essere così preoccupata. È vero che il dottor Mead ha detto che io sono... sono... Melania Rossi. Molto stretta di bacino, ma ha anche detto che forse tutto andrà bene e... Rossella, lo avevi scritto tu a Carlo o se ne era occupata tua madre? O forse tuo padre? Dio mio, se avessi la mamma! Non so proprio... Taci! Fece Rossella violentemente. Taci! Oh, come sono stupida, Rossella! Perdonami, è vero che tutta la gente felice è egoista. In questo momento dimenticavo Carlo. Ma taci! Esclamò di nuovo Rossella, cercando di controllare il proprio volto e dominare l'emozione. Melania, la donna più piena di tatto che esistesse, aveva le lacrime agli occhi per la propria crudeltà. Come aveva potuto richiamare a Rossella il terribile ricordo di Wade, nato alcuni mesi dopo la morte del povero Carlo? Ti aiuto a svestirti, cara, disse umilmente, e ti pettinerò io. Lasciami sola, ordinò Rossella con il viso contratto. E Melania, scoppiando in lacrime di pentimento, uscì, lasciando la cognata con l'orgoglio ferito, la delusione e la gelosia, come compagni del suo letto solitario. La giovane pensò che le sarebbe stato impossibile vivere ancora sotto lo stesso tetto con una donna che aveva in grembo un bimbo di Ashley, e pensò di tornare a Tara, a casa sua. Si alzò l'indomani con l'idea di preparare il suo bavule, subito dopo colazione. Ma appena furono sedute a tavola, Rossella, cupa e silenziosa, Pitti stupita e Melania felice, giunse un telegramma per quest'ultima. Era dell'attendente di Ashley, Moose. Cercato ovunque senza ritrovarlo. Devo tornare a casa? Nessuno comprese il significato di quelle parole, ma gli occhi delle tre donne si volsero dall'una all'altra, dilatati dal terrore, e Rossella dimenticò il suo proposito di andarsene. Interrompendo la loro colazione, si recarono subito in città per telegrafare al colonnello di Ashley, ma appena giunte all'ufficio fu consegnato loro un telegramma di questi. Dolente informarvi, maggiore Wilkes mancante dopo ricognizione compiuta tre giorni fa. Vi terrò informata. Fu uno spaventoso ritorno a casa. Zia Pitti piangeva nel suo fazzoletto, Melania sedeva rigida e pallidissima, e Rossella era istupidita, rannicchiata in un angolo della carrozza. Giunte a casa, Rossella salì barcollando nella sua camera, afferrò il rosario che teneva sul tavolino, e piombando in ginocchio tentò di pregare. Ma la preghiera non venne alle sue labbra, e fu presa da un folle terrore che Dio avesse distolto il suo volto da lei a causa del suo peccato. Aveva amato un uomo sposato, e aveva tentato di toglierlo alla moglie, e Dio l'aveva punita, lasciando che fosse ucciso. Voleva pregare, ma non poteva elevare lo sguardo al cielo. Avrebbe voluto piangere, ma le lacrime non venivano. Le bruciavano negli occhi, senza però uscire. La porta si aprì, e Melania entrò. Il suo volto era pallidissimo, incorniciato dai capelli neri, lo sguardo simile a quello di un bimbo impaurito, sperduto nel buio. Rossella, disse tendendo le mani, devi perdonarmi quello che ti ho detto ieri, perché non ho più altri che te. Oh Rossella, so che il mio amore è morto. Un attimo dopo, era fra le braccia di Rossella, ed entrambe sedevano sul letto, stringendosi forte, con le lacrime dell'una che bagnavano le guance dell'altra. Anche Rossella adesso piangeva. Ma quanto era peggio non piangere? Ashley è morto, pensava. E sono io che l'ho ucciso perché lo amavo. I singhiozzi la sopraffecero, e Melania, trovando un certo conforto in quel pianto, si strinse maggiormente a lei. Almeno, bisvigliò, almeno ho il suo piccino. Ed io, pensò Rossella, troppo colpita per poter essere gelosa, non ho nulla, 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 eccetto l'espressione del suo volto quando mi ha detto addio. Le prime informazioni dicevano disperso, forse morto, e il nome apparve in questo modo sulla lista. Melania telegrafò una decina di volte al colonnello Sloan, e finalmente giunse una risposta, molto sentita, nella quale si spiegava come Ashley, uscito in ricognizione con una pattuglia, non fosse più tornato. Si parlava di una lieve scaramuccia, avvenuta presso le linee Yankee, e Moes, pazzo di dolore, aveva rischiato la vita per cercare il corpo del suo maggiore, ma non aveva trovato nulla. Melania, stranamente calma in quel momento, mandò all'attendente del denaro e l'ordine di ritornare subito a casa. Quando sulla nuova lista apparvero le parole disperso, forse prigioniero, gioia e speranza rianimarono la casa. Melania non riusciva a staccarsi dall'ufficio telegrafico se non per recarsi in stazione all'arrivo di tutti i treni, sperando di ricevere lettere. Era molto sofferente, la gravidanza le dava parecchi disturbi. Ma rifiutava di obbedire alle prescrizioni del dottor Mead, che le ordinava di rimanere a letto. Era piena di una febbrile energia. La sera Rossella laudiva per molto tempo passeggiare in camera sua dopo che tutti erano andati a dormire. Un pomeriggio tornò a casa nella carrozza guidata dallo spaventato zio Pietro, sorretta da Rhett Butler. Era svenuta all'ufficio del telegrafo e Rhett, che si trovava a passare e aveva visto la folla che si andava formando, l'aveva riaccompagnata a casa. La portò su per le scale e la depose sul letto, sistemando i cuscini dietro il suo capo, mentre tutte le donne, sgomente, si affrettavano a prendere mattoni caldi e a cercare coperte e whisky. Mrs. Wilkes le disse Rhett bruscamente. Voi aspettate un bimbo, non è vero? Se Melania non fosse stata così debole e sofferente, questa domanda l'avrebbe sbalordita. Anche con le amiche provava imbarazzo a parlare delle sue condizioni e le visite del medico erano un angosciante tormento per lei. Ma che un uomo, e particolarmente Rhett Butler, le rivolgesse una domanda simile era incredibile. Nel suo stato, non fece che accennare di sì. E dopo la cosa non le parve più tanto tremenda, perché Rhett sembrava preoccupato e molto affettuoso. Allora bisogna che abbiate più cura di voi stessa. Tutto questo correre su e giù non può farvi bene, e certamente danneggia il bambino. Se mi permettete, Mrs. Wilkes, cercherò, attraverso le relazioni che ho a Washington, di sapere qualcosa di vostro marito. Se è prigioniero, sarà sulle liste dei federali, e se non lo è, beh, tutto è preferibile all'incertezza. Ma ho bisogno della vostra promessa. Se non avrete cura della vostra salute, giuro su Dio che non muoverò un dito. Come siete buono! esclamò Melania. Come fanno a dire tanto male di voi? Quindi, sopraffatta dalla coscienza della spudoratezza dimostrata parlando del proprio stato con un uomo, cominciò a piangere debolmente. E Rossella, che saliva a precipizio le scale con un mattone caldo avvolto in un pezzo di flanella, la trovò con Rhett che le accarezzava una mano. Rhett mantenne la parola. Nessuno seppe mai quali fili riuscì a muovere. Non osarono chiederglielo, per timore che ciò significasse un riconoscimento dei suoi stretti rapporti con gli Yankee. Ci volle un mese prima di sapere qualcosa, e le notizie che dapprima le fecero gioire crearono nei loro cuori, in un secondo tempo, un'angoscia lacerante. Ashley non era morto, era stato ferito e fatto prigioniero. Le informazioni dicevano che si trovava a Rock Island, un campo di prigionieri nell'Illinois. Nel primo impeto di gioia pensarono solo al fatto che lui era vivo. Ma quando cominciarono a calmarsi, si guardarono sgomente, esclamando, Rock Island, come se avessero detto, all'inferno. Perché, come Aldersonville era un nome che spaventava quelli del nord, così Rock Island terrorizzava gli abitanti del sud, che avevano qualche parente rinchiuso laggiù. Quando Lincoln rifiutò lo scambio di prigionieri, credendo che lasciare alla Confederazione il peso di nutrire e vestire i prigionieri dell'Unione avrebbe affrettato la fine della guerra, migliaia di uomini vestiti di blu furono raccolti ad Aldersonville, in Georgia. I Confederati avevano scarsità di cibo e di medicinali per i loro ammalati e feriti. Avevano perciò ben poco da dividere con i prigionieri. Diedero loro da mangiare quello che davano ai soldati, grasso di porco e pisalli secchi, e con una dieta simile gli Yanchi morivano come mosche, a volte più di cento in un giorno. Inferocito da quelle notizie, il nord rese più duro il trattamento riservato ai prigionieri confederati, e il luogo dove tale trattamento era peggiore era Rock Island. Il cibo era insufficiente, c'era una coperta ogni tre uomini, e le stragi prodotte dal vaiolo, dalla polmonite e dal tifo fecero di quel luogo un lazzaretto. Tre quarti di coloro che vi erano mandati non ne uscivano vivi. Ashley stava in quel posto orrendo, era vivo ma ferito, e a Rock Island la neve cadeva ininterrottamente. Era morto per le ferite, dopo che Retta aveva avuto le informazioni? Era stato colpito dal vaiolo o delirava per la polmonite senza una coperta che lo riparasse. Oh capitano Butler, non c'è modo, non potete fare uso della vostra influenza per ottenere che venga scambiato, supplicò Melania. Mr. Lincoln, l'uomo giusto e pietoso che piange disperato sui cinque figlioli di Mr. Bixby, non ha lacrime per le migliaia di uomini che muoiono ad Aldersonville, rispose Retta toscendo la bocca. Non gli importa nulla della loro morte, l'ordine è perentorio, niente scambi. Non, non ve l'avevo detto prima, Mrs. Wilkes, ma vostro marito è stata offerta la possibilità di uscire e l'ha rifiutata. No, gridò Melania desolata. Vi dico di sì, gli Yankees stanno reclutando uomini per il servizio di frontiera per combattere contro gli indiani e li reclutano tra i prigionieri. Chiunque vuol prestare giuramento di fedeltà e arruolarsi nel reggimento che va contro gli indiani, viene liberato e inviato all'ovest. Mr. Wilkes ha rifiutato. Ma perché? gridò Rossella. Perché non ha prestato giuramento per poi disertare e tornare a casa appena libero? Melania si voltò a guardarla come una piccola furia. Come puoi anche solo immaginare che avrebbe potuto fare una cosa simile? Tradire la propria confederazione prestando un abietto giuramento e poi mancare al giuramento stesso. Preferirei saperlo morto a Rock Island piuttosto che saperlo traditore. Sarei fiera di lui se morisse in prigione, ma se facesse quello non potrei più guardarlo in faccia. Mai. È naturale che abbia rifiutato. Quando Rossella accompagnò Rhett alla porta, gli chiese indignata. Se foste stato voi, non vi sareste arruolato con loro per evitare di morire in quel luogo e non avreste poi disertato. Senza dubbio, rispose Rhett, facendo brillare i suoi denti bianchi sotto i baffetti neri. E allora perché Ashley non l'ha fatto? Perché è un gentiluomo. E Rossella si chiese come fosse possibile mettere in quella parola rispettuosa tanto cinismo e tanto disprezzo.